Ha fatto molto discutere nei giorni scorsi la notizia che ci saranno delle Model 3 che verranno dirottate dalla produzione cinese al mercato europeo. Quindi non tutte le Model 3, come è successo fino adesso, che girano sul mercato, sul territorio europeo, verranno prodotte in America a Fremont, nella gigafattoria californiana, ma cominceranno ad arrivare anche dal mercato cinese. E qui c'è stato un po' un sollevamento, non dico popolare, perché è un parolone, però c'è stato chi si è lamentato e ha detto no, ma come, ma io la voglio californiana, io pago dei soldi, la macchina costa, a me non sta bene che sia cinese, allora mi devono fare lo sconto, la macchina se è cinese deve costare di meno, il made in Cina io non lo voglio. Allora, cerchiamo di capire un attimino di più. Oltre a 7000 Tesla Model 3 imbarcate dalla Cina verso l'Europa, arrivano a novembre con lo sconto. Come previsto, il primo lotto di Model 3 cinesi destinate al mercato europeo è ora in viaggio. Sono tutte pre-restyle, ho fatto un video anche sul restyle molto leggero della Tesla Model 3, per essere vendute con lo sconto anche in Italia, quindi queste qua verranno vendute con uno sconto e sono pre-restyle. Dopo un tira e molla durato alcuni mesi, infine Tesla ha gettato la maschera e ha rivelato i piani per esportare anche in altre parti del mondo i veicoli prodotti nella fabbrica cinese. Non che il mercato in Cina vada male, anzi, ma la necessità di chiudere l'anno con numeri mai visti, cioè sempre in crescendo, e la produttività, ormai ad ottimi livelli, ha spinto Elon Musk e i suoi alla decisione di esportare i veicoli e per prima è stata coinvolta l'Europa. Quindi sono scelte puramente commerciali, insomma di fatturato, di trimestrali. Tesla ha confermato con un comunicato ufficiale che, in attesa del modello restyling previsto per febbraio 2021, la Model 3 Standard Range Plus, che saranno in pronta consegna nelle prossime settimane, saranno unità prodotte in Cina. Quindi, attenzione, si comincia a delineare un po' di più, a capire qualcosa. Cioè, innanzitutto si parla di Model 3, sì, ma Standard Range Plus, quindi quella con batteria ridotta a 60 kW e solo motore posteriore. Le prime 7.000 vetture sono state avvistate in fase di carico su una nave da trasporto, come confermano le dichiarazioni a margine di un evento organizzato per celebrare la prima esportazione. E dopo, vabbè, qua c'è un virgolettato che riporta questa cosa. Arrivo dunque previsto per la fine di novembre, così che i clienti interessati possono avere la propria auto in tempo per rivestività natalizie. Secondo il responsabile Tesla in Cina, poi dice il nome, vabbè, Xiaotong, si tratta di una tappa molto importante per lo stabilimento asiatico, che a soli 10 mesi dall'inizio della produzione, ricordiamo che era stato inaugurato nella settimana di Natale, appunto, dell'anno scorso, ed era poi entrato effettivamente a pieno regimo solo nei mesi successivi, è in grado di supportare il mercato locale, ma anche di passare tutte le certificazioni necessarie alla vendita in Europa. Quindi anche qua tutti quelli che hanno detto, no, ma come il prodotto cinese? No, sono macchine praticamente identiche a quelle che vengono fatte a Fremont. Non è ancora chiaro se questa sarà l'unica spedizione o se la casa prevede di effettuarne altre, e questo sarebbe invece un dato importante da capire. Se ci sarà quindi un travaso costante di produzione cinese verso il mercato europeo, oppure se si tratta solo di un'operazione, una tantum, di un'operazione spot, come si dice in gergo commerciale, per appunto questioni di fatturato, di marketing e quant'altro. Considerando che la Model 3, con le ultime novità introdotte, modifiche estetiche, portellone elettrico, pompa di calore, andatemi a vedere il mio video in cui ne parlo, sarà disponibile da febbraio, e ci sarebbe tempo anche per un secondo lotto a gennaio. Resta un dettaglio fondamentale lo sconto che Tesla ha promesso, 2.000 euro in meno per convincere i clienti a rinunciare alle novità. Quindi, insomma, si capisce che, allora, sostanzialmente riguarda solo la Standard Range Plus, quindi le Long Range, la doppio motore e le Performance continueranno ad arrivare, quelle che arriveranno qua saranno quelle che continueranno ad essere prodotte, che vengono prodotte da Fremont in California. C'è comunque uno sconto, quindi chi dice, Ah, no, ma allora se me la dai cinese me la devi far pagare di meno. Effettivamente, la paghi di meno. Non è la restyling. Ripeto, l'ho detto anche nei miei video, restyling è un po' una parola grossa, perché in realtà esteticamente la macchina è praticamente invariata, se no per la rimozione delle cromature con le parti nere, cambia più che altro la console, la dotazione della pompa di calore e il bagagliaio ad azionamento elettrico posteriore. Di restyling si parla di poco e niente. Quindi, insomma, ci sono delle differenze. Vorrei però dire, e qui chiudo, a tutti quelli che si lamentano del Made in Cina, ma io non voglio il Made in Cina, non voglio il Made in Cina, che in realtà, se voi guardate sulla vostra scrivania, i vostri computer, i vostri telefoni, se guardate le console con cui giocare, cioè qualsiasi cosa ormai prodotta dagli ultimi, voglio stare stretto, vent'anni in qua, c'è praticamente scritto Made in Cina dappertutto. Quindi, ma marchi prestigiosi, voglio dire Pioneer, adesso nomino Pioneer per citarne uno, cioè Pioneer è un classico simbolo del Made in Japan, della tecnologia giapponese, eppure Pioneer non produce più niente in Giappone ormai da anni, 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 cioè qualsiasi cosa arriva, arriva Made in Cina. Come dico sempre, anche nel mio settore, ai miei clienti, esiste il Made in Cina di serie A, di serie B e di serie C. Non è che tutto il Made in Cina fa schifo. Dipende, c'è il Made in Cina economico, il Made in Cina di medio livello e il Made in Cina di qualità superiore. Fior fior di marchi fanno fare ormai tutto in Cina, ma la stessa Bosch tedesca, che fa componentistica di qualità per le macchine tedesche, BMW, Mercedes, Porsche, Audi, e poi anche per il mercato per le macchine italiane, in realtà è tutta componentistica, la maggior parte di questa componentistica fatta in Cina, per rimanere in termini automobilistici. E quindi insomma, urlare sempre al Made in China, no io il Made in China non lo voglio il Made in China, dipende che Made in China è, ci sono fior fior di marchi, ormai praticamente vorrei dire il 90-80% dei marchi mondiali che producono in Cina, dall'abbigliamento alla tecnologia, all'automotive, e dipende semplicemente che tipo di Made in Cina ci si fa fare, se ci si fa fare un Made in China economico, o se ci si fa fare un Made in China di qualità, dipende dalle scelte commerciali. Credo che Tesla non faccia fare un Made in China di scarsa qualità, e quindi benvengano anche le vetture fatte in Cina, che tanto sono identiche a quelle fatte in California, forse ci potrà essere una differenza con quelle fatte a Berlino, ci aspettiamo grandi cose dalla manufatturiera specializzata tedesca, quindi ci aspettiamo che quelle fatte in Germania siano effettivamente superiori in termini di qualità sia alle californiane che alle cinesi, però a parte quello, credo che si possa stare tranquilli e che non ci siano grandi problematiche. Quindi benvengano anche le Model 3 fatte in Cina, se questo può servire per raggiungere target, budget e quant'altro, che servono poi per volare anche in borsa, tenere gli investitori tranquilli e calmi e non creare problematiche inutili, che in questo periodo di problematiche ce ne avremo già anche troppe. Quindi, viva le Model 3 Made in China!